Nel mio viaggio in Siria sono arrivata nel nord-est, vicino a Raqqa, quasi al confine con la Turchia e ho l'occasione di visitare la grande diga di Tabaka, detta della rivoluzione. La rivoluzione perché ha portato una vera rivoluzione nella economia agricola di questo posto. Non solo, poi c'è l'acqua e poi c'è anche l'energia elettrica. Quindi questa zona, la parte della Mesopotamia che è sempre stata la culla della civiltà, è ritornata a fiorire perché si era desertificata. L'acqua era nell'antichità il petrolio. Più avanti provo a fermarmi nell'aia di una casa contadina che sta al margine della strada, con la mia guida che parla italiano. Allora, è la famiglia di questo signore, composta da 13 persone. Questa è l'aia e questa è la cucina. Andiamo a vedere la cucina. Il frigorifero, da quando c'è l'elettricità, per la diga che dà l'elettricità, c'è il frigorifero. Cucinare per 13 persone è dura. L'albero è in un'italia, c'è il frigorifero. Anni guarda gli esami. Guarda, fiore. Fiore. Vai dalal. 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 Hai il hamama. Fatima. 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 Hamama. 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 Pincione. Hamama. Piccione. Hamama. 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 Tutti e quattro sono bravi. Tutti e quattro. E a questo punto non resta che invitarmi in salotto. E queste sono amiche, figlie, eccetera, tutte non sposate e questa ultima signora è la mamma. Allora si si sposa dai 15 ai 20 anni e loro anche se non sono molto convinte si sposeranno perché di solito si si sposa. E poi quanti figli si fanno? Arrivano bambini in quantità. La signora ne ha fatte 13. E invece questa signora ha 9. Due femmine o sette maschi. E io adesso sono costretta a dire una. Cosa penseranno che ha una figlia sola? Giustamente dice o non li vuoi oppure stai male e non puoi averli insomma. Mi chiede perché non ho portato la bambina con me? Cioè, è a casa con il papà. E volevamo sapere come è cambiata la vita da quando c'è la diga e quindi c'è l'elettricità, l'irrigazione, tutte queste cose. Perché in realtà in questi posti la vita in fondo è cambiata pochissimo da epoche antichissime. Ha detto che prima non c'era neanche il pane, adesso ci sono tante galline, tante pecore, tante cose, tante figli. Ma ad interromperci arriva un guastafeste, il severo capofamiglia. Si è arrabbiato che ha detto che, insomma, cos'è questa roba? Allora andiamo, grazie mille su Cran. Com'era la storia, è arrivato il capo tribù e ha detto come? Qui è chiuso, cosa succede qui? Tutta questa gente, tutte queste donne, cosa succede? Tutta calma la moglie, sta zitta, sta fuori, va fuori, esci fuori. E non rompere. Non rompere, via. Ora, a sei anni di distanza, penso a quelle donne siriane e alla loro allegria e ai loro bambini. E posso immaginare che sono le stesse che fuggono dalla guerra sui barconi che le portano fino da noi, a costo della vita, o che al confine con la Turchia passano fra il filo spinato per portare in salvo i loro figli. E al loro posto lo farei anch'io.